Chi ha le palle? Io! Chi ha le palle? Io! Chi ha le palle? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vado a riparo. Scompasso. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Arriviamo in 30 secondi. Arriviamo da Nord. Vado in posizione, scopritemi! Avanti! È arrivato! Che troia! Ti vengo a prendere! Dai, che dottore! Fuoco, fuoco! Fuoco! Fuoco, 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 fuoco! Sì. 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 Sì, sì, sì. Ah! Guarda che ci sono fatti! Ah! Ah! Non può nemmo perderti! Andiamo a superiori, ragazzo! No, no, no! Mano ai superiori! Degno, scolabitore di merda! Degno! 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 Zegno! E un bel pecho! Degno! Stop! Degno! thoseine! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.